Amici di canalecaccia.tv, siamo all'interno dello stand della Garmin, sembriamo due amici al bar, caro Giancarlo. Buongiorno. Bene, abbiamo diverse novità di cui parlare, partiamo dal collare. Sì, quest'anno andiamo a proporre sempre il prodotto di punta per quanto riguarda il tracciamento cani della Garmin, la Temos. La Temos 100, con grossa soddisfazione abbiamo il risponso dell'utente finale che ci dice che va molto bene. È un nome che ha anche una garanzia, no? Certamente, certamente. In questa fiera abbiamo deciso insieme a Garmin di fare una promozione molto... Sì, infatti stavo per chiedertelo, anzi mettiamolo anche, facciamolo vedere ai nostri amici che ci vedono tramite web. Allora, questa promozione sicuramente è eccezionale perché andando ad acquistare un kit, si intende un palmare e un collare, l'utente finale avrà in omaggio due collari K5, tracciamento cani e tutto quanto. Quindi con un notevole risparmio e soprattutto, ecco, abbiamo visto che l'utente, di solito, il numero dei collari, più o meno, soprattutto anche per chi ha cani da ferma, è quello lì. Quindi con una spesa minima andiamo a soddisfare l'esigenza completa del cacciatore. Mi sembra veramente un'ottima opportunità. Fino a quando dura? Vedo fino al 31 di marzo. Chiaramente è legata alla fiera. Sicuramente dura e finisce fino a fine marzo, sì, fino al 31 di marzo. Senti, parliamo di Garmin, vogliamo levare tutti i dubbi su sta storia delle frequenze, che ormai è diventata una specie di leggenda metropolitana, così, no? Sì. Perdonami se te lo chiedo, ma penso che ti va piacere anche a te parlare. Senz'altro, andiamo a confermare che le frequenze sono frequenze utilizzabili appieno in Italia, quindi senza alcun tipo di limitazione e soprattutto andiamo a dire che queste frequenze non limitano l'efficacia e l'utilizzo del prodotto, anzi, bensì, abbiamo visto che la performance in alcuni casi è anche superiore ai precedenti modelli. Che cos'è che fa di Garmin un prodotto particolare tra le tante offerte che ci sono sul mercato? Allora, per quanto riguarda il prodotto linea caccia abbiamo visto che il prodotto è di facile utilizzo, quindi intuitivo e poi le prestazioni sono molto elevate. Qui abbiamo la possibilità di vedere mappe. Abbiamo fatto anche degli studi adesso recentemente sulla beccaccia con parte dell'ISPRA e andando a scaricare i dati con un programma base camp della Garmin siamo andati a vedere anche i percorsi del cane, la velocità nei vari tratti, le quote, i punti di incontro del selvatico. Quindi è molto performante, molto bello e affascinante da parte del cacciatore che è appassionato di cinofilia, diciamo che non è il prodotto più economico che sta sul mercato e non può esserlo, ma una ragione c'è. No, sicuramente è superiore agli altri e non per questo è voluto che sia più caro, però comunque il prezzo è giustificato, il rapporto qualità prezzo in relazione a quelle che sono le capacità sia dal punto di vista tecnico, realizzativo, c'è tutto un insieme di cose che lo rendono un prodotto che uno non è che acquista per una stagione ma l'acquista praticamente per la vita e soprattutto chi è passato da un prodotto a un altro è rimasto a Garmin e non è andato a cercare altre cose. In questo caso l'abbiamo reso anche con questa promozione molto più economica. Molto più economico, volevo arrivare a quello, quindi è il caso Giancarlo di approfittare. Solo che la vostra azienda che da anni ha iniziato la distribuzione di Garmin non si ferma qui. Intanto sul mercato loro vi conoscono tutti anche come mare in mano, sono prodotti di buffetteria e abbigliamento. Buffetteria e abbigliamento di qualità eccezionale, la tradizione toscana qui si fa sentire, caro mio. Però vedo che ci sono delle belle novità. Proponiamo un clip-on, questo strumento l'abbiamo già testato ed è molto efficace, è composto da due... Allora il marchio intanto di questo prodotto che voi distribuite? Questa è un'azienda che ce lo produce per noi e stiamo in questi giorni aspettando la certificazione CE per poterlo mettere in commercio. E quindi sarà in commercio... Vuol dire che la famiglia mare in mano cresce se succedono queste cose. Sì, sì, diciamo che questo prodotto è composto da due componenti e questa componente qua viene messa dalla parte dell'ottica. Praticamente è l'anello che va a bloccare l'ottica che poi si interfaccia con lo strumento vero e proprio. Dove poi andiamo a mettere lo strumento e diciamo che questo strumento nella distanza dei 200 metri consente una visibilità molto nitida di qualsiasi cosa, in questo caso degli animali o di qualsiasi cosa. Che posizionamento di mercato avrà questo? Se te lo posso chiedere che già sono stati... Allora, questo l'abbiamo confrontato con altre aziende e tutto quanto, partiremo con un posizionamento medio per quanto riguarda il prezzo, però poi ha un'ottima risoluzione e un'ottima performance per stare tra i top. E poi garantisce mare in mano, per questo la loro serietà, oltre che la loro simpatia. Quando si entra su questo stand non manca mai il sorriso, guarda, non ho visto mai che ne attiene a tuo fratello con il broncio. No, no, assolutamente, siamo qua, ci mettiamo la faccia. Mi piace perché è un'azienda che ci mette la faccia da tanti anni, ci sono diventati bianchi i capelli nel frattempo, da che ci siamo conosciuti e c'è veramente la serenità nell'approccio e la serietà. Cerchiamo di fare al meglio con la miglior correttezza possibile sui prodotti. Io devo fare delle domande scomode, chiaramente. L'assistenza? L'assistenza è molto molto buona, nel senso che nei due anni dall'acquisto con la presentazione dello scontrino e della fattura, in questo caso è di un anno facendo la fattura, l'utente per difetti di fabbricazione non deve pagare nulla, viene spedito dal negoziante direttamente a Garmin e ritorna al negoziante. I tempi vanno dai 10 ai 15 giorni massimo per riaverlo di nuovo l'utente. Anche perché diversamente bisognerebbe attrezzarsi per fare dei miracoli, no? Sì, calcoli che con il tempo di trasporto già andiamo tra andare e venire, di solito sono i 3-4 giorni. Diciamo nel giro di una settimana di lavoro, 10 giorni massimo. Da studi fatti rimane in Garmin circa due giorni e mezzo il prodotto tra che viene visionato e viene rispedito. Molto bene, ci rivedremo caro mio a Norimberga tra qualche giorno. Lì vorrei parlare anche di calzature perché siete anche distributori di Ciruca, quindi questa calzatura spagnola che è conosciuta dai nostri amici calciatori. Senz'altro, senz'altro. E' un rapporto qualità prezzo eccezionale. E' molto buona una calzatura in Goldex. Quindi facciamo una specie di promo. L'azienda sarà presente anche a Caccia Village? Saremo presenti a Caccia Village e a Norimberga. Molto bene. Giancarlo, io ti lascio al numeroso pubblico di VOA. Grazie a te per la disponibilità e buon lavoro sia a te che a tuo fratello. Benissimo, grazie a tutti.